Giovedì 27 gennaio la conferenza dei servizi della provincia di Alessandria, assessorato all'ambiente, ritornerà ad esaminare l'autorizzazione integrata ambientale, cioè l'AIA, rilasciata nel 2010 dalla provincia allo stabilimento di Spinetta Marengo della Solvei. Sarà l'occasione per rivedere l'autorizzazione generale, cioè quella rilasciata per tutte le produzioni chimiche dello stabilimento. L'anno scorso tra l'altro era stata allargata alla produzione del C6O4, sempre nello stabilimento di Spinetta. Tutti i comitati ambientalisti seguiranno videocollegati come uditori la conferenza di giovedì, occasione importante sulla quale esprimeranno la loro posizione in anticipo già oggi con un comunicato stampa congiunto. Proprio nei giorni scorsi tra l'altro la Solvei è ritornata all'attenzione della Commissione Eco-Mafie per iniziativa di alcuni parlamentari. È stata infatti presentata una relazione di oltre 100 pagine nella quale si chiede un nuovo studio molto più approfondito del caso. L'esigenza nasce anche alla luce di quanto sta avvenendo in Veneto dove è in corso il processo per l'inquinamento da sostanze chimiche PFAS. A risponderne sono chiamati i vertici dell'azienda Miteni di Trissino. Per lo stabilimento di Spinetta si chiede di controllare ulteriormente se la barriera idraulica predisposta da Solvei per bloccare l'inquinamento delle acque sotterranee risulti veramente efficace per evitare il diffondersi di sostanze chimiche nelle falde a valle dello stabilimento. La lunga relazione presentata alla Commissione Eco-Mafie è stata votata all'unanimità.